Ciao a tutti ragazzi e benvenuti in questo nuovo video sul canale, sono TheWolfFair Oggi siamo sul canale con Enzo, saluta, bene Enzo, Enzo, buonasera E oggi ci sfideremo però non con le armi normali, stai fermo Non con le armi normali ma con le armi che hanno appunto rimosso da Fortnite Quindi vediamo un po' se i produttori dall'Epic Games hanno fatto bene a levare queste armi Anche se la Thompson era figa, quindi iniziamo con il fight, tu vai di là e io vado di qua E vediamo come ce la cambiamo a distanza e stai fermo, stai fermo, stai fermo Possiamo iniziare Ho fatto una cagata però Molto ingegnosa la tua tecnica da persona intelligente Quanto leva sto bomba? Non leva niente, bene Yes Non leva proprio niente, non leva sto bomba Mamma mia che l'hanno levato Cioè sto bomba qua bianco leva zero Mamma mia per poco ti colpivo se non costruivi Ok No ma mi ingaio troppo Devo fare quello che sto a fare No ma mi ingaio troppo No ma mi ingaio troppo No ma mi ingaio troppo Voi paura Ma come ha paura il tifone Dai Gavi Gavi se No Il problema di sto coso Che leva 30 ogni colpo 42 Cioè io adesso ti avrei fatto 2 Non so se ci stiamo chiarendo Dove stai Un silenzio Come si concentra Ma le pomoggi Dove esci? Qua? Bene Bene Yes Cosa fai se è chiuso? Vai a aprire la finestrella Dai Dov'è? Oh no 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 ho preso la modifica Cosa sto facendo Dai Ma donna sotto la scella Boom 110 Dai che crepi No 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 il foo Così ti ammazzo Il video 14 Ti vengo a chillare Mi raccomando Tu non rispondere al foco mai No Non ci credo Quanto di vita c'hai? Quanta di vita c'hai? Sì sì ci credo 76 Tollevato 77 Bene Qui c'è già il mondo Facciamo Dovare un po' di costruzioni Oh perché? Oh Dai Hai paura Non hai colpito Di rispondere No 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 Cosa ho fatto? Dai Pochissima vita No Devi essere sincero Quanta vita c'hai? Bene Ah quindi prima Eri stato sincero Va bene Ti credo Da mo la vergogna del mondo 4 a te però si deve levare una perché prima mi è ucciso fuori dal video quindi quante kill stai meno una a cui stiamo messo uguali dove sei dove stai non ho visto ancora eccoci guardo là come il build ma cosa vuoi fare? mi vuoi sfidare? tu mi hai sfido veramente? ma non ti vergogni 69 in testa yeeeh pompa quelli forti oh ti doi colpire? no 11 di vita no 11 di vita no 11 di vita no ah beh ma tu hai il mio stesso pompa bene io in testa 69 tu 192 va bene lo accetto lo accetto ci stavo venendo a piccone perché non ho preso l'arma ma dove vai mongolari in bicicletta ma tu adesso devi indovinare chi mi ha chiamato ti prego no 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 mario no mario no mario si capiva da subito che era mario perché dopo avresti urlato quella frase lì ma dove stai? sparisci ma che diamine ma cosa sono queste cose? dove stai? come stai giù? come stai qua a spararmi in bocca? oppure mi prendo in giro non è vero no ma che balla facciamo una cosa se c'hai il coraggio ma sicuramente non ce l'hai adesso chi fa l'ultima chi le vince l'onore di questo video ah va bene non accetti perché hai paura giustamente va bene a parte che non ho meno kill abbiamo le stesse kill però ce ne ho sei e dobbiamo ricordare che a te ne dobbiamo levare una mamma mia ma che cosa ho? vabbè allora metaforicamente parlando che sei il più forte di me quindi accetta la sfida sì o no tanto più o meno siamo alle stesse kill eh io sono a 7 non è che chissà che paura ho di avere una kill in meno di te eh io sono caduta adesso con vabbè non accetti allora mi hai fatto infuriare va bene non te la concedo questa cosa di farmi infuriare sai non te la concedo hai rimpianto di non aver accettato la sfida bravo bravo rimpiangi non mi faccio sparare da te proprio what? perchè è finita? perchè? mmm allora dobbiamo fare facciamo la bella adesso eh da facciamo la bella vediamo chi la vince perchè stanno stimoli in cielo vabbè eh eh ma aspetta ma siamo già in fight ah cioè fammi prendere le armi sorry 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 fammi prendere le armi fermo calmo calmo stai calmo stai calmo perchè non mi fa aprire le casse? ma hai avviato la nuova partita almeno ma vabbè eh poi possiamo iniziare a andarle chissà che arma mi manca ma no non mi farei anche costruire no tu non hai avviata avvia ecco bastardo ma perchè voglio aggiungere l'editing? me lo spieghi stanta mi interessa no niente ma armi scarse proprio scarsi scarsi stanno schifo mica c'è una cosa qui no no ma io scherzo oh quindi questo video come finisce che ti ho aperto in pratica c'è un'arma fammi cambiare un'arma che schifo ok aspetta un attimo ok ora si può iniziare si può iniziare si può iniziare no no ok quindi adesso è l'ultimo giustamente perchè finale finale adesso è la finale più grossa giusto no no ma che quella di prima questa qua erano le finale quella di prima l'avrei vinta io quindi adesso ti do questa piccola possibilità bene mi sa che ho vinto ho visto un po' quindi ragazzi spero che questo video vi sia piaciuto insieme a Enzo lasciate un like se non l'avete ancora fatto iscrivetevi al canale se non siete ancora iscritti vedete la campanella per un vero di un super fantastico video quindi da TheWolfPlayer è tutto noi ci vediamo il prossimo video Enzo vuoi salutare? bene con quante professionalità quindi ciao aspettate un attimo questo qua non ha capito cosa che sta giocando e quindi il video è finito ciao a tutti ciao